Nelle tasche dei pantaloni aveva nascosto stecche di hashish e diverse dosi di cocaina. A fermarlo ed arrestarlo la polizia di Stato. Gli operatori delle volanti hanno fermato all'auto dell'uomo un 45enne a retino incensurato nel corso di un'attività di prevenzione e controllo del territorio. Alla vista degli agenti è però subito apparso estremamente agitato, così è scattata la perquisizione. Dalle tasche è saltata fuori la droga, due stecchi in celofan trasparente contenente hashish con sovraimpresso il marchio di una mela, probabilmente utilizzato dai trafficanti per identificare la partita e otto involucri in bustine di celofan termosaldate contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dell'uomo, dove è stato scoperto altro stupefacente e materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione. In totale sono stati sequestrati 816 grammi di hashish, 77 di marijuana e 6,39 grammi di cocaina. Per il 45enne sono scattate le manette e è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il GIP ha convalidato l'arresto applicando la misura cautelare dell'obbligo di dimora.